Ciao amici, oggi non creo insieme a voi, oggi sono qui per ringraziare un mio carissimo amico che mi ha fatto questo piccolo regalo, che sono veramente, ragazzi sono veramente contento ve lo mostro da vicino e vi spiego cos'è questa qui è una stampa che ragazzi non so come, che macchinari si utilizzano per farla ma è stampata su Ardesia ed è veramente spettacolare, liscia, è molto molto bello poi mi piace comunque la fotografia, l'ha ritoccata in un modo molto simpatico perché mi ha raccontato che in quel periodo lì che facevo comunque i video con questa acconciatura qua riuscivo a farlo sorridere e allora mi ha voluto fare questo piccolo pensiero l'unica cosa ragazzi che non posso presentarvelo perché comunque mi ha proibito di farvelo conoscere se io dovessi riuscire un giorno a, diciamo, a mostrare qualche sua creazione magari a farvi conoscere chi è mi metterò il link di un suo account Instagram, Facebook, Youtube quello che è importante che un attimino abbia la voglia di farsi conoscere per adesso è così, posso solo dire che è un mio carissimo amico albanese e sono veramente, veramente molto, molto, molto contento è veramente qualcosa di spettacolare quindi ragazzi, io sto regalando questo piccolo minuto a questo mio amico solo per poterlo ringraziare di questa sua, veramente, pensiere e gesto spettacolare ragazzi, ci vedremo per il prossimo video e un grosso saluto ciao a tutti!